Quando diciamo che l'acqua è un bene comune, diamo per scontate un po' di cose che non può essere privatizzata, che rappresenta un diritto, qualcosa di universale come l'aria, ci ho detto, il problema è tutto dopo, che dei beni comuni bisogna prendersi cura, che l'acqua sia pubblica non rappresenta niente, se non una condizione di partenza, poi il problema è come la si usa e non riguarda le istituzioni soltanto, non riguarda la politica soltanto, riguarda i comportamenti, riguarda noi, non è la soluzione del problema il fatto che l'acqua sia un diritto e sia pubblica, è l'inizio di un problema, è come la si usa, è è su questo che si gioca davvero il valore dei messaggi, perché dire che l'acqua deve essere un diritto è scontato, lo sapete voi, lo so io, non ha bisogno di niente, io detesto le cose scontate, credo che sia una sfida e allora le sfide ci piacciono, se ancora abbiamo voglia di giocare, di partecipare, di provare a reagire a una sfida, se ci sediamo allora compratevela in bottiglia con l'etichetta.